Il guinchun è un sistema di autodifesa molto in tema anche con la giornata di oggi perché è stato ideato da una donna, non si basa sulla forza fisica, sull'abilità acrobatica, sfrutta la forza dell'avversario a proprio vantaggio. Non c'è arte marziale migliore in questo giorno, è adatta alle donne. Detto questo io inviterei a provare pure le persone presenti, non c'è bisogno di nessuna abilità particolare. Grazie a tutti. Quando vado a lavoro io vado a finire la pressione. Quando succede una cosa del genere la prima cosa sono i punti delicati. Io devo solamente muovermi sulla linea centrale, quindi ginocchio, ginocchio, occhi, gola. È sbagliato quando lui viene avanti chiudersi perché mia pressione prende posto, prende coraggio. sembrano delle cose senza senso, ma in realtà... grazie per l'intervento di oggi.